Live social, interviste e storie, bentornati amici di Radio News 24. Vi ricordo come sempre che live social è presente anche sul web, attraverso gli hashtag interviste e storie potete trovarci su tutti i nostri canali. Parliamo oggi di turismo, perché insomma la vita sta ripartendo e chissà che non potremo goderci a pieno quest'estate. Ho in collegamento telefonico il nostro prossimo ospite, Renzo Argiolas dello stabilimento balneare Caraibi Beach. Benvenuto. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Vuoi un po' introdurci nel tuo mondo? Come e quando nasce il tuo stabilimento? Dove si trova? Cosa ci proponi insomma? Sì, sì, sì. Allora mi trovo in Sardegna, in una bellissima isola, in uno dei posti sud-ovest della Sardegna, a circa 70 chilometri da Cagliari. Vicino a noi abbiamo l'isola di Carloforte, come ben conoscete, anche per via delle firme che ha fatto appunto Gianni Morandi. mi trovo in una schiazza dorata, vicino a delle bellissime dune, dune di sabbia. Retrostante dietro abbiamo una pinetta naturale, un pittino da letto, quindi in una meraviglia, meraviglia nelle meraviglie, ecco. Grazie a tutti.